mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro ben ritrovati ben ritrovati a tutti radio rossonera lunedì è andato mercoledì è davanti oggi però il giorno della verità è martedì martedì 16 maggio ci decidiamo una finale dobbiamo ribaltare un 2 a 0 non sarà facile ovviamente ma crederci è d'obbligo se essere tifosi del milan in questa serata diciamo così vale ancora qualcosa enrico boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti mancano veramente poche ore alla resa dei conti o sarà gloria o sarà un tonfo pesante da andare giù e da digerire per per noi tifosi del milan ecco quindi mancano poche ore sale un pochino d'ansia devo essere onesto perché non so è una di quelle serate che credo passeranno e verranno consegnate alla storia ecco o in un modo molto bello o nell'altro molto brutto non so la sensazione di 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 serata che rimarrà nella testa delle persone ecco quindi non so in che modo non so se positivo o negativo mi auguro positivo e però stamattina mi sono svegliato guardato fuori dalla finestra e ho detto boh per me stasera qualcosa succede in bene o in male gioco una partita era un po' esoterica la cosa però vabbè e ovviamente vogliamo restare positivi poi se si perde pazienza cioè non è che il fatto che uno nel caso si possa diciamo così illudere per qualche ora nel nel pre poi lo fa accadere nella disperazione più nera nel post ragazzi dobbiamo cercare di essere ottimisti si perde pazienza e tante non cambierà il risultato di viverla così anche perché cioè nel senso noi due volte su due li abbiamo eliminati in champions league quindi che una volta possa andare diversamente è difficile da mandare giù ma può anche succedere pensate dovesse accadere il contrario cioè sarebbero poterosi quindi rimaniamo comunque positive rimaniamo rimaniamo ottimisti e poi commenteremo tutto quanto alla fine di questi 90 o chissà magari non 90 minuti poi diciamo che il peso del del derby lo fa sempre il risultato finale vedi il 2005 non vinci quel derby vinto sì vinci la coppa il derby del 2003 prende ancor più pesantezza il derby dei derby deviazione per istanbul tra l'altro deve verso rafa la freccia questa è la prima pagina di gazzetta rafa può bastare c'è scritto solo se il diavolo torna una squadra tutto sulla notte che porta a istanbul e cambia il futuro i nerazzori partano dallo zero dell'andata i rossoneri con le au per il ribaltone eh dai vi do un altro motivo per provare a sperare un po' di più che è milanello milanello di sera ieri sera milanello è entrato il parrucchiere di alcuni giocatori ha dato una sforbiciata a brahim sì è una sistemata a teo sì che però non mi sembra aver fatto un nuovo colore non sembra chi lo sa per me è quel rosino marcio che gli è rimasto e gli ha solo sistemato il taglio andiamo a vedere le formazioni le formazioni sono abbastanza fatte non ci sono novità non ci dovrebbero essere novità anche se ieri si è un po' sparsa la voce di un colloquio di eh di pioli con orighi a bordo campo che poteva presumere a un suo impiego però se un allenatore parla con un giocatore cinque minuti può voler tutto e può voler dire niente onestamente migliano in porta calabria ciao tomori ternandez cruni cetonali samaker di alzeleao e olivier giru dall'altra parte c'è onana bastoni e cervi d'armian di marco mkhitaryan c'è la nago barella e danfeis con lautaro e gecko in attacco le scelte del minan sono più o meno chiamate anche perché se andate a vedere la panchina con mirante florenzi che però è riduce da un po' di non con convocazioni calulu chier gabbia ballature sono cinque difensori in pratica se florenzi un po e puoi riadattarlo nel caso degli altri sono cinque difensori pobega un mediano messias l'unico esterno un po' recuperato all'ultimo de chietelare ribice orighi la panchina è la vera differenza tra le due squadre perché negli 11 per me il milan non è inferiore all'inter se la gioca con l'inter negli 11 il problema è lì quando vai a vedere poi in panchina perché il minan ha forse 23 giocatori che ti possono dare qualcosa dalla panchina ma stiamo parlando neanche di chissà quale contributo ma meglio di zero l'inter invece ha una panchina molto più lunga molto più completa che a volte ti dà anche delle alternative tattiche che ti dà anche qualcosa di diverso soprattutto davanti anche in mezzo con brosovic quindi eh questa è insomma la la situazione delle delle due panchine della differenza principale tra tra il famoso e quello che è stato oggetto di discussione di dibattito nella gara di andata livello e valore della rosa che sicuramente vero il mio sarà inferiore nessuno dice nessuno dice questo nessuno dice il nessuno dice il contrario però da qui a prendere due gol a non in dieci minuti a non giocare minimamente a non provare niente nessun tipo di reazione tecnico tattica mentale cioè veramente è stato una resa veramente una bandiera bianca e da qui bisogna ripartire da quel derby lì bisogna ricordarsi cosa è successo nel derby di campionato di ritorno cosa è successo nel derby di riad tutte tre sconfitte tutte diverse ma tutte in cui il milan non è sceso di fatto in campo e quindi bisogna trovare un modo per cambiare questa cosa qui esatto quello che bisogna cambiare è l'atteggiamento perché troppe volte quest'anno ci si è un po' autogestiti onestamente bisognerebbe tornare a essere un tutt'uno una vera e propria squadra che non non che alcuni singoli decidono ma si oggi do importanza la partita la gioco ma si oggi c'è il derby magari quindi lo gioco ma si oggi c'è il derby quasi quasi lo preparo e no mi non sarebbe togli la formazione simo che è su da facciamo così dai rt salvi perché anche le marche hanno una prevalenza di tifosi del milan luce san siro l'italia tif al derby c'era scritto comanda al milan andiamo avanti in lombardia al sud spinge l'inter in finale questa è la cartina se siete liguri toscani laziali campani molisani pugliesi e siciliani datevi da fare non so cosa dirvi fate proseliti perché in teoria in questa regione ci sarebbero più tifosi dell'inter cosa combinate soprattutto in sicilia vede c'è uno scarto clamoroso ma anche in campania ma le marche no no le marche no e l'emilia romagna no quindi la ragione in cui vivo e ho vissuto la ragione in cui sono nato sono salve la calabria sei salvo anche tu che hai origini sì ho origini ma non sono di lì sì in teoria sì comunque sì comunque ragazzi siamo salvi allora noi direttori che per origini che per in teoria secondo il sondaggio ci sono 4 milioni 222 quindi due 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 milioni di tifosi del milan in italia contro i 3 milioni e 9 dell'inter ma tant'è è ovviamente un mondo calcistico stasera che guarderà la partita non ci saranno solo i tifosi di milan inter ma essendo una semifinale AC Milan ci guarda il mondo non si possono fare le figure in semifinale che si sono fatte all'andata non giocando una partita è una semifinale di champions non di coppa italia che la guardano fino a lugano è una semifinale di champions la guardano anche a metti tailandia di qua ovunque esatto ma quello che ha detto gerard a tal proposito non va troppo distante dalla realtà è qualche dopo la semifinale è andata gazzetta poi mette a confronto i due monti stipendi delle squadre con gli altri due di di city e di di real madrid c'è un leggerissimo disavanzo proprio un pelino un attimino eh con gli 86 del milan e 132 dell'inter a confronto dei 214 242 del real madrid cioè noi siamo esattamente un terzo del real madrid bene e siamo sempre siamo lì con loro nel semifinale eh che bello oserei dire eh questo però che bello che bello Rafa sì questo però forse si deve dare un'indicazione che beh la sostenibilità bellissimo essere lì con quel monte in gaggi ma anche spendere un paio di spicci in più non è che farebbe schifo ecco no anche perché se ci vanno sempre gli altri come ha detto credo lo stesso paolo maldini ci sarà un perché di solito arrivano sempre le top negli stipendi e nelle spese leao riuscirà a ribaltare il derby nella domanda di gazzetta bella domanda io sono d'accordo lo ripeto per il terzo giorno con questa frase qua un giocatore non vince da solo il milan deve essere una squadra leao può ribaltare il derby se il milan gioca la partita se il milan fa il milan se il pioli l'ha preparata bene se abbiamo dei piani alternativi se abbiamo un piano gara preciso se l'atteggiamento è giusto se tutte queste cose vanno per il verso giusto allora leao può ribaltare la partita ma semplicemente con la sua presenza perché ti porta via degli uomini perché viene raddoppiato triplicato libera spazio per altri perché se hai un contropiede va sei volte rispetto a quanto è andato salmachero messias nella partita di andata insomma è così in questo leao può ribaltare il derby ma se deve essere un entriamo in campo già un pochino sconfitti con la mentalità un po della squadra che deve giocare la disperata con il piano gara che giro palla di difensori e poi andiamo là e facciamo il segno della croce sulla sinistra sperando che ne scarti quattro vada in porta ecco se questo è il sperare in leao possiamo sperare quanto vogliamo ma non si combina niente se invece il milan ha preparato qualcosa c'è un piano c'è la voglia c'è la testa c'è la grinta eccetera 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 allora leao può ribaltarlo il derby cominciano anche due forse nella stessa partita sono più o meno d'accordo con te ma penso che più o meno siamo d'accordo tutti cioè senza il milan non si vince senza leao non si vince cioè devono accadere entrambe le cose non è difficile pensare che il milan possa fare una buona partita a prescindere dalleao e passare anche perché ragazzi non dobbiamo fare almeno due gol per andare oltre cioè e i gol li fanno lui o girù o al massimo qualcun altro su assi sempre di lui cioè quindi i gol di solito soprattutto negli ultimi mesi sono sempre passati dai suoi piedi o se te o decide di tirare giù la testa e andare in porta però tutto sommato passa passa da lui poi il milan può anche fare una gara diciamo così media ma se rafa non va oltre la media per me non ce la fai ma perché è semplice è una partita di livello più alto e devono giocare giocatori di livello più alto il milan nel 2007 al ritorno fa una partita clamorosamente di squadra dove tutti alzano il livello dove fanno partita tutti di altissimo livello ma l'andata no ma al di là all'andata se non prendi un'imbarcata a manchester anzi quasi quasi rischi di portare via il risultato è perché il signore col 22 si inventa quasi da solo due gol uno da solo e l'altro quasi i campioni purtroppo li paghi come c'era nella grafica prima e servono a questo va beh speriamo dai speriamo che rafa sia inserata sì no speriamo speriamo di rafa contanto che non sarà nemmeno al 100 per cento perché rientra da uno stiramento cioè non è che è stato in ferie due settimane ha avuto un stiramento in tutto questo è vero è stato fermo però è stato fermo relativamente poco dai ce la può fare poi un ragazzone che fisicamente ma non mi sembra proprio le prime armi anzi rimetto il volo un secondo la formazione ma proprio 10 secondi c'è un altro giocatore r un insospettabile del milan che cosa non so se parliamo sempre di rafa 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 e ma chi ti deve appigliare in questa partita qua l'andata non c'era le tiritere le i provini le prove c'è contro l'inter non c'è contro l'intera forse salto lo spezia no con lo spezia non c'è riposa perché torna nel derby di ritorno di chi dobbiamo parlare io mi aspetto di più da te o in termini di di verve di voglia di cattiveria di malizia anche sembra essersi completamente spento nei derby non ne so il motivo e poi olivio girù che se quell'altro fa assist qualcuno che deve far gol ci deve essere e girù è quello delle partite importanti e dico una cosa che dissi prima la partita contro il napoli di ritorno e forse proprio da quella partita lì che olivio girù non segna e se li deve un po spendere stigo al pesante olivio girù forza domani anzi stasera è l'occasione giusta io spero nel milanismo e nel capitanismo che non si dice di sandro tonale e della partita all'ottavo minuto è il caso non dovessimo segnare nei primi sette già lo vedo pieno in volto che non ne vuoi più al settimo perché non abbiamo ancora segnato caro r noi ci ritroviamo alle 11 con chiama mila ci ritroviamo alle 13 con lanci alle 16 con il talk alle 19 non c'è filo rosso nero come al solito perché alle 20 c'è il pre partita alle 21 c'è la live reaction che è la cosa credo peggiore della giornata e alle 23 il post partita r che dire ciao mi raccomando seguiteci oggi lasciate un like diteci la vostra nei commenti iscrivetevi al canale attivate la campanella live reaction derby semifinale di champions è dura non so chi altro ve la fa noi la facciamo ciao grazie a tutti ci ritroviamo tra poco gli appuntamenti saranno tanti in pratica non vi lasceremo mai sperando che il milan non ci lasci per strada grazie a tutti mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti